Sindaco Luciani, siamo nella parte nord della costa di Francavilla dove sono iniziati i lavori per i pennelli che dovrebbero salvaguardare questo tratto di spiaggia dall'erosione. Si realizzano 11 pennelli che vanno dal confine con Pescara fino al porto, in maniera tale che tutta la costa nord venga chiusa con questo sistema. La caratteristica di questi pennelli è un po' particolare perché a differenza di quelli pescaresi che non sono percorribili, questi saranno dei piccoli pontili con una camminata in legno che consentirà quindi anche una gradevole sosta sul pennello stesso. Quindi intendiamo anche con quest'opera migliorare paradossalmente l'approccio e la costa. Mi auguro funzioneranno, certo non è un'opera che può dirsi definitiva per la difesa della costa, considerate che spendiamo per questo appalto circa 900 mila euro per 3 chilometri e mezzo di costa. In passato sono stati spesi 4-500 mila euro per un singolo pennello, noi ne realizziamo 11. È chiaro che come tutti intuiscono questi lavori sono assoggettati, la velocità di questi lavori è assoggettata alla forza del mare. La settimana scorsa siamo stati completamente fermi, oggi vedete alle mie spalle un bel mare dove si può lavorare, speriamo che duri questo tempo. Quindi questa variabile tempo e forza del mare fa sì che non possiamo programmare con precisione. Diciamo che se dovessimo assistere a una stagione bella come la giornata di oggi, prima dell'estate avremmo finito. Anche la parte sud di Francavilla purtroppo il centro soffre dell'erosione, è immaginabile pensare che questo sistema possa essere steso a tutta la città? Questo ovviamente è stato già pensato, io ho chiesto di verificare ora effettivamente cosa svilupperà questo progetto, quali saranno gli effetti di questo progetto essendo pronto poi a ribaltarlo sulla costa sud. La costa sud che però ha bisogno anche di interventi urgenti, improrogabili e per questo la regione ci ha recentemente finanziato con parte di quei soldi chiuderemo alcuni varchi nelle zone più problematiche. Grazie. 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 Grazie.